Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1927, prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, vigilia di Napoli-Udinese, turno infrasettimanale e come sapete quando c'è vigilia di una partita c'è la conferenza stampa di Rudy Garcia. Non c'è stata conferenza stampa, non c'è stata ragazzi, non c'è stata conferenza stampa. Non si sa il motivo perché non ci sia stata questa conferenza stampa, non ci sarà né questa né la prossima di campionato, la conferenza stampa di Rudy Garcia. Intanto, ultima ora, Aurelio De Laurentiis indagato per farsi in bilancio per l'affario Simen, ma potete indagare quanto vi pare, tanto non uscirà mai nulla. Tanto col culo che abbiamo noi ci manderanno in Serie B, mentre quegli altri dovevano fallire già da ormai 5-6 anni per i falsi in bilancio per i conti in rosso. Ora tocca a noi e ci areranno il culo e ci manderanno in Serie B. State a vedere come va a finire, ci leveranno lo scudetto, ci leveranno lo scudetto. Comunque, a parte le cazzate. Allora, signori, vigilia di Napoli-Udinese. Cioè, ragazzi, io ho proprio voglia di vedere il Napoli. Ve lo giuro, è la prima volta quest'anno che ho voglia di vedere una partita del Napoli. Voglio vedere cosa si sarà inventato Rudy Garcia, dopo che ha detto che a Bologna c'è stata una grandissima prestazione da parte dei ragazzi. Voglio vedere cosa si inventerà. Cosa si inventerà nella partita di domani, ragazzi. Dice la Gazzetta, ci saranno massimo due cambi. Spoiler, non ci sarà nessun cambio, ragazzi. Come abbiamo giocato a Bologna, così giocheremo. Lindstrom non giocherà. Difesa un'altra volta, Ostigard e Nathan. Ragazzi, finalmente, perché Nathan ha fatto vedere veramente cose buone. Questo ti fa capire l'intelligenza che non ha questo allenatore. Nathan non è pronto, non è pronto, non è pronto. Nathan votò 7 da tutti i giornali, migliori in campo per il Napoli. Nathan all'esordio a Bologna in un campo non semplice. Questa è la dimostrazione che questo non sta capendo nulla. Comunque, a parte questo, ragazzi. Sono curioso perché anche oggi c'è stata la rifinitura da parte dei giocatori di Rudy Garcia. E' stata fatta allo stadio di Guarmando Maradona. Non si sa come mai, ma Rudy Garcia ha deciso di fare l'ultimo allenamento pre-udinese allo stadio di Guarmando Maradona. Vorrà provare qualcosa, vorrà vedere il terreno, ragazzi. Non lo so, non lo so. Io so solo che se tu domani non porti a casa i tre punti questo rischia veramente di diventare un'annata dove il Napoli difficilmente entrerà in zona Champions League, ragazzi. Possiamo dirlo tranquillamente. E dopo che hai vinto uno scudetto, non andare in Champions League significa che tu hai fatto una stagione penosa. Io non ti dico che dovevi vincere lo scudetto con 16 punti di vantaggio come abbiamo fatto l'anno scorso. Però, cazzo, almeno abbi la coerenza e la volontà e la forza di dire vabbè, me lo sto difendendo con le unghie e con i denti arriveremo fino a fine campionato e ce lo giocheremo con un'altra squadra. Ragazzi, non è così. Il Napoli attualmente non è in corsa per lo scudetto. Il Napoli attualmente è in corsa per l'Europa League. Punto. Io non ci metto manca la Champions League. Per ora siamo da Europa League. E se domani, come detto, il Napoli non dovesse portare a casa i tre punti sarebbe clamoroso. Perché se tu non riesci a portare a casa questi tre punti significa che tu stai messo male, male, male. Oggi un udinese ha fatto un gol in campionato. E a me questa è la cosa che mi preoccupa. Che questi hanno fatto un solo gol in campionato. Ne prendono un monte di gol in campionato perché ne prendono veramente, veramente tanti in campionato. Ma tu stai a vedere. Domani Lucca, che ha sbagliato l'impossibile contro la Fiorentina Lucca domani diventa bambastre. Diventa maradona. Perché tanto è così, waiu. Io già c'ho l'anima in pace. Domani il Napoli viene a sfudurare che voi non ne avete idea. Io ne sono convinto. Proprio per questo motivo qui. Che questi faranno la prestazione della vita. Faranno la prestazione della vita contro di noi. Come è sempre stato. Come è sempre stato, waiu. Quindi è lì che io mi preoccupo e dico Waiu, ma tu vuoi vedere che questi domani non hanno mai fatto gol. Domani si vendono 3-4 gol così all'improvviso come la Lazio contro il Napoli. Che aveva fatto 4 gol, poi 2 gliel'hanno tolti. E poi da lì in poi ha fatto solo i falazzi. Quindi ragazzi, è una partita da non sottovalutare. Spero che questo pseudo allenatore metta nella testa dei giocatori un briciolo di orgoglio, ragazzi. Un briciolo di orgoglio perché ragazzi, questo Napoli non ha carattere, non ha orgoglio, non ha niente. Non ha niente, waiu. L'unica cosa che possono fare questi giocatori è prendersela con l'allenatore. Ed è giusto pure, waiu. Perché un allenatore che non sa fare il suo lavoro significa che questo è un allenatore incapace. È incapace, ragazzi. Questo è un allenatore incapace. E io continuo a ribadire. Se sei stato esonerato in Arabia Saudita, qualcosa c'è sotto. Perché un allenatore come Rudy Garcia, che ai tempi della Roma fece bene, va in Arabia Saudita. E ragazzi, non porta risultati in Arabia Saudita. È grave la cosa, waiu. È grave, ma veramente, veramente grave. E quindi noi ora ci appelliamo a questa voglia che hanno i giocatori del Napoli di risalire la china. Ragazzi, io me lo auguro, perché, waiu, sinceramente, vedere un Napoli così, allo fascio più totale, è una cosa brutta, waiu. È una cosa brutta, perché fino a pochi mesi fa esultavamo per lo scudetto sul tricolore sul petto, proprio contro l'Udinese. E ora stiamo parlando di un Napoli che non ha carattere. L'allenatore non ne sta imbiffando una. Alcuno mi dicono, ma tu non devi stare dalla parte di Garcia. Ragazzi, ma come fai a stare dalla parte di Rudy Garcia quando questi giocatori che scendono in campo ti hanno fatto vincere uno scudetto? Mi dite come fate. Io questo, come fate? Ditemi come fate e io vi stringo la mano e vi dico, vabbè, c'hai ragione tu. Perché, ragazzi, attualmente il Napoli, waiu, io nel grande primo tempo del Napoli, passi in avanti, io questi passi in avanti non li ho visti. Non li ho visti e l'ha detto anche di Lorenzo in conferenza stampa post Bologna. Ragazzi, lui l'ha detto, noi non siamo abituati a giocare con la linea bassa, noi siamo abituati a giocare in alto, in avanti. Noi siamo abituati in questo modo, che dobbiamo sempre attaccare perennemente. E questo non lo riesci a capire, waiu. È grave. È grave. Io spero domani sera di non smadonnare come ho smadonnato la scorsa settimana. Perché, waiu, qui è grave la situazione, qui è grave. Come arrestano, waiu, mi faccio fare un UTSO, perché, waiu, veramente non è possibile. E non è possibile, ragazzi, che i tifosi non se ne rendano conto, una piccola parte non se ne renda conto. Qualcuno dice che dobbiamo andare contro i giocatori. Ma come fanno andare contro i giocatori, waiu? Waiu. Ma voi avete visto Ancelotti a Napoli cosa combinò? Ancelotti a Napoli ci mise sei mesi, sei mesi per rovinare il Napoli. Questo ci ha messo sei partite, waiu, siamo alla sesta. Siamo alla sesta partita. E questo ha sciupato tutto il buono che aveva fatto Luciano Spalletti, waiu. Ed è gravissimo. Perché tu avevi la macchina perfetta. Questa macchina perfetta, non si sa come mai, degli staff tecnico e tutta questa cosa sono andati via tutti. Anche il preparatore, waiu, in Napoli tutti questi risentimenti muscolari che hanno i giocatori del Napoli. C'è qualcosa sotto che non va, waiu. Significa che tu la preparazione atletica non l'hai saputa fare. La preparazione atletica è scarsa, non l'hai saputa fare. Perché se no non si spiegliano, waiu, tutti questi infortuni. Gli infortuni che ci ha avuto il Napoli in queste prime sei giornate, il Napoli di Spalletti le ha fatti nell'arco di tutta la stagione. Questo in sei partite di campionato. In sei, waiu. Ed è gravissima. Ed è gravissima. Addirittura, ma si parla di prendere un difensore perché Juan Jesus non potrebbe ritornare. Non si sa quando ritorna. Rachmani, idem. Ragazzi, qui siamo nella merda più totale. E se continuate a difendere questo allenatore, se non gli fate capire che deve fare anche un po' di autocritica, secondo me non si andrà da nessuna parte. Comunque, iscriviti al canale. Sempre e comunque. Forza Napoli, dal vostro Napoli 61926. Ciao, waiu.